E' l'atto finale con cui la provincia acquisendo il terreno e approvando il progetto fa partire la firma del contratto che avverrà il 15 di aprile e quindi contestualmente la partenza del tempo che sono 4 mesi per la presentazione del progetto esecutivo. Di fronte al progetto esecutivo c'è tempo massimo 2 anni per l'entrata in funzione del biodigestore quindi una data importantissima che attendiamo da 20 anni ma devo dire con stupore quando sono entrato qui in provincia due anni fa ho dovuto un mese dopo firmare la partenza della gara perché era tutto fermo da 15 anni.